Ferdinando De Maria ha iniziato la settimana che porta questa semifinale playoff alla gara 1 dopo aver passato il turno anche in maniera agevole nei quarti di finale. Incontriamo Frassati, che partita vi aspettate? Sicuramente ci aspettiamo una partita tosta in quanto loro sono una squadra molto molto esperta a partire da Cecchetti, da Moscianese, lo stesso Di Bello è un playmaker di 1,95 che comunque in categoria fa il suo. Sono una squadra esperta, quindi gente che ha vinto tante volte i campionati gente che sa stare in mezzo al campo e che le serie playoff le sa giocare molto molto bene. De Maria la pausa è servita per recuperare dal punto di vista fisico però insomma devono essere bravi anche gli allenatori a tenere un po' alta la tensione per questa semifinale che sta per arrivare. Sì, i ragazzi li abbiamo fatti recuperare un pochettino, li abbiamo dato due giorni di stop in modo che recuperavano fisicamente. Siamo proiettati per questa settimana di lavoro dove cercheremo di ritornare concentrati e pronti per affrontare questa semifinale. Matt Pebble, siamo ancora lontani da questa partita contro Frassati. Siamo tutti molto concentrati ed esaltati all'idea di giocare questa semifinale. Ci stiamo preparando duramente per affrontare la partita al meglio. Siete ottimisti per ottenere l'accesso alla finale, visto che ci avete vinto contro Frassati sia nella gara di andata che in quella di ritorno della regular season? La serie dei playoff è totalmente diversa dal campionato. Si parte 0-0 e bisogna restare concentrati sin dal primo minuto. Matt, sarà importante per voi anche l'apporto del pubblico che ci sarà qua in questa palestra alla Ricucci nella gara 1 e nella eventuale gara 3? Sì, il pubblico della Ricucci è molto caloroso e ci dà una grande spinta. Per quanto riguarda la partita speriamo sia numeroso sia per gara 1 che per gara 3.